Nessuno può criticare o giudicare il mio vivere e il mio pregare. La luna l'amo perché secondo me racchiude la femminilità e il mistero. È magica per me la luna, è buio la luna. Quindi io e la banalità proprio, non ci rivolgiamo alla porta. Mamma, mamma, io non sono cristiano, mi sono dato il buddismo. Io non so cos'è, ma ora faccio il buddismo. La bellezza è una cosa molto esteriore, è una cosa che può passare, capito? Quindi se uno prende una moglie non tanto bella, è più facile che migliori col tempo, come il vino. L'amore è un sauerfer. Vuoi parlare francese, monsieur? Io non voglio parlare in tuo cuore. Guarda loro gli occhi. Ho preso una cosa per bambini, poi lo modificate con gli occhi di un peluche. Alcora ho preso il money. Far sì che la consuetudine rimanga fuori da questa casa. Non ho capito niente, comunque il fascino rimane. Io sono il principe di Carseghetto. In Austria io ho comprato una fisica armonica bellissima. solo che suonano col disco. Cin cin, ora suon te. La luna appartiene all'uomo come appartiene alla sua follia. Sono un folle. Ordera. La luna appartiene all'uomo come appartiene a casa. Ho preso il 2010. Per l'uomo è un luogo come appartiene a casa. È una surely un luogo. Credo. Grazie a tutti.